Dal Vangelo secondo Luca In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli È inevitabile che vengano scandali, ma guai a colui a causa del quale vengono. È meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e sia gettato nel mare, piuttosto che scandalizzare uno di questi piccoli. State attenti a voi stessi. Se il tuo fratello commetterà una colpa, rimproveralo. Ma se si pentirà, perdonagli. E se commetterà una colpa sette volte al giorno contro di te e sette volte ritornerà da te dicendo, sono pentito, tu li perdonerai. Gli apostoli dissero al Signore, accresci noi la fede. Il Signore rispose, se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo gelso, sradicati e vai a piantarti nel mare. Ed esso gli obbedirebbe. Il seme della senape è piccolissimo. Però Gesù dice che basta avere una fede così piccola, ma vera, sincera, per fare cose umanamente impossibili, impensabili. Ed è vero, tutti conosciamo persone semplici e umili, ma con una fede fortissima, che davvero spostano le montagne. Pensiamo, per esempio, a tante mamme e papà che affrontano situazioni molto pesanti, o a certi malati, anche gravissimi, che trasmettono serenità a chi li va a trovare. Quanta gente fra noi ha questa fede forte, umile e che fa tanto bene. Grazie. 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 Grazie.